Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Tra Empoli Est, Ginestra Fiorentina in direzione Firenze, tra Ginestra e Montelupo Fiorentino verso Livorno. Per quanto riguarda le statali, si ricorda che la 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!